La Valencia che è sotto l'acqua e soffre. Io ho voluto che fosse qui la patrona di Valencia. La chiamano la Vergine dei Desamparados, gli abbandonati a Valencia, la città spagnola devastata dalle alluvioni dei giorni scorsi. Preghiamo per Valencia. Francesco Lavuoli accanto a sé sul palco dell'udienza del mercoledì. La preghiera è anche il tema della catechesi, quella dei figli di Dio però premette il Papa, non quella degli schiavi. Proprio così, vale a dire. Si deve pregare sempre con libertà. Oggi devo pregare questo, 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 perché ho promesso questo, 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 dal contrario andrò all'inferno. Quello non è preghiera, la preghiera è libera. La preghiera, spiega poi, ci fa gustare la gioia della misericordia del Padre anziché distruggerci con sterili sensi di colpa. Lui assicura il Papa, quando abbiamo paura dei suoi rimproveri e gli chiediamo perdono, Non ci lascia finire, lì non lascia finire la parola perdono, ci perdona prima. Pregate, Francesco conclude, in preparazione al Giubileo, un compito tanto prezioso e necessario nella Chiesa. Pregate con il cuore, non con le labbre, non fare dei papagalli. L'ultimo pensiero, oltre a Valencia, torna sempre alla guerra. E preghiamo per la pace.